In aula del Consiglio regionale arriva la sottotitolazione per non udenti. Le sedute a Palazzo Lascaris saranno rese fruibili alle persone con disabilità sensoriale e uditiva attraverso la promozione dello strumento del sottotitolo come modalità di comunicazione e di inclusione sociale. Lo ha reso noto l'assessore alla cultura Vittoria Poggio, in sostituzione dell'assessore alle politiche sociali Chiara Caucino, rispondendo in aula a un'interrogazione presentata dal capogruppo dei moderati Silvio Magliano. Non è più accettabile che nel 2020, ancora oggi, le persone non possano accedere in trasparenza a quello che accade in aula, soprattutto le persone con disabilità. Questo è l'obiettivo, rendere accessibili le sedute dell'aula, le conferenze stampa del Consiglio regionale della Giunta a tutte le persone con disabilità uditiva. Questo è fondamentale che venga fatto perché ormai troppe sono le leggi, troppi sono gli ordini del giorno che lo chiedono. Mi auguro che quanto prima, almeno entro il 2020 e di sicuro non oltre il 2021, questo tipo di sottotitolazione venga attuata in Consiglio regionale come accade in tante altre istituzioni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha già dato mandato agli uffici di valutare la migliore soluzione, dal punto di vista sia tecnico che economico, per la sottotitolazione automatica delle sedute, con particolare attenzione alle soluzioni open source già esistenti utilizzate dalle grandi piattaforme. Verrà anche fatta una valutazione per la traduzione simultanea in list delle conferenze stampa, coinvolgendo enti e associazioni che si occupano della traduzione in lingua dei segni. L'assessore Poggio ha poi spiegato che il sito istituzionale del Consiglio rispetta tutte le norme in materia di accessibilità grazie a continui miglioramenti tecnici e già oggi l'utilizzo della sottotitolazione è previsto per diversi prodotti informativi del Consiglio. Questi futuri interventi rappresentano dunque un ulteriore passo avanti che rispecchia l'attenzione dell'Assemblea sul tema della disabilità.